Sarà il 19 settembre, non il 12, il giorno della prima campanella negli istituti scolastici superiori di Teramo. Dopo i problemi registrati nei plessi a seguito del terremoto dello scorso 24 agosto e poiché lo sciame sismico non smette di far tremare la terra, il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, ha chiesto al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi di posticipare di una settimana rientro nelle scuole degli studenti del capoluogo. Un'istanza che è arrivata da alcuni dirigenti scolastici che in una nota inviata alla provincia hanno richiamato l'attenzione sul fatto che la maggior parte degli studenti nuovi iscritti non conoscono gli edifici scolastici e non hanno mai fatto prove di evacuazione. In più, in alcune istituzioni sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione e quindi mettono nero su bianco i dirigenti Loredana Di Giampaolo, Clara Morchella, Caterina Provisiero e Achille Volpini. Nessuno vuole sottrarsi alla responsabilità, ma in una situazione ancora incerta è opportuno gestire la riapertura con calma e serenità, senza una tempistica convulsa. Per quanto riguarda invece la situazione delle scuole materne, elementari e medie, ieri pomeriggio nella sala consigliare del comune di Teramo il sindaco ha incontrato una rappresentanza di una sessantina di genitori preoccupati dalla sicurezza degli edifici in cui mandano i propri figli a scuola. Una riunione che doveva essere chiarificatrice e che invece a molti non è servita a fugare i dubbi. Noi abbiamo capito, le scuole sono agibili ma non sono sicure. Abbiamo capito che una scuola vecchia, già lo sapevamo perché ci siamo informati forse a differenza loro, che una scuola vecchia risistemata non può essere antisismica, può essere migliorata per il sisma. La mia domanda era come mai dopo il 2009 in una zona che fa parte della faglia, che attiva, non siano state adeguate le scuole. C'è stato risposto che sono state controllate 9 scuole su 31. Per cui il sindaco spera che non arrivi il terremoto, noi tutti speriamo che non arrivi il terremoto, se domani arriverà il terremoto non lo sappiamo perché lui non ci può dare garanzie. Di sicuro al momento resta il fatto che solo 12 scuole su 31 hanno ricevuto le verifiche strutturali antisismiche e per le altre 19 servono circa 220 mila euro, ragion per cui, al massimo entro dopodomani, il sindaco di Teramo dovrebbe decidere sullo slittamento della riapertura delle scuole comunali, anch'esse, con ogni probabilità, destinata ad accogliere gli studenti il 19 di settembre.